Neonato morto in sala parto, la tragedia avvenuta nel pomeriggio del 31 dicembre scorso alla clinica Malzoni di Avellino. Una giovane coppia di Avellino il giorno prima si è regata presso la struttura sanitaria di Vialitalia per un controllo dovuto a dei dolori avvertiti dalla giovane partoriente. In effetti la donna, in attesa di due gemellini, aveva in programma il parto cesareo proprio il giorno di San Silvestro presso la Malzoni. Ad ogni modo, il 30 dicembre la donna è stata sottoposta a tutti gli esami clinici che si effettuano in questi casi, un'ecografia, un tracciato e una visita ginecologica. Tutto bene, gli esami non hanno riscontrato alcuna anomalia, fino a quando la giovane è entrata in sala parto ed è stata sottoposta all'intervento del cesareo. Solo allora i medici le hanno comunicato che uno dei due piccoli, il maschietto che aveva in grembo, è nato senza vita, mentre la femminuccia stava bene. Lo shock è stato fortissimo. I familiari che attendevano il lieto evento nei corridoi della clinica hanno immediatamente chiesto spiegazioni ai medici. I camici bianchi hanno chiarito che hanno seguito tutte le procedure sanitarie e mediche e che il neonato, quando è venuto alla luce, era già morto. Ora i genitori, distrutti dal dolore, sono pronti a presentare una denuncia alla magistratura perché ritengono che ci sia stata negligenza medica. Naturalmente sarà la stessa magistratura a chiarire le cause del decesso del neonato. I medici si dicono a disposizione per qualsiasi chiarimento.